Buongiorno a tutti da Giuseppe Recca, oggi è mercoledì 19 luglio, polemiche dopo una riunione sull'emergenza personale sanitario in provincia di Agrigento convocata dal commissario ASP Mario Zappia con i sindaci dei comuni dove sorgono i cinque presidi ospedalieri del territorio. La riunione ha alimentato polemiche perché il comune di Sciacca non era rappresentato e tutta l'assenza è stata stigmatizzata dai gruppi consigliari di opposizione. Tutti hanno sottolineato la gravità di questa assenza in un momento storico in cui l'ospedale di Sciacca sta attraversando gravi problemi legati alla carenza di personale sanitario. Tornando alla riunione di ieri, il commissario dell'ASP Mario Zappia ha detto che un corposo numero di medici italo-argentini, oltre un centinaio, potrà prendere presto servizio nei diversi reparti degli ospedali della provincia, contribuendo a potenziare gli organici e sopperendo alle difficoltà. Nella finanziaria terra approvata ieri sera dall'Assemblea regionale siciliana sono previsti fondi per le terme di Sciacca Cireale, soldi per definire la liquidazione. In totale sono 4.200.000 euro, 1.200.000 dei quali per le terme di Sciacca. Per acquistare dalla terme di Sciacca S.P.A. in liquidazione il piccolo albergo San Caloggio, l'uno dei beni che faceva ancora parte della procedura di liquidazione e che non consentiva di proseguire l'iter per il percorso di riqualificazione. Soddisfazione è stata espressa dal deputato Sacenze Michele Catanzaro, che con il suo gruppo ha sostenuto la norma ma votato contro la finanziaria, e dal deputato riberese Carmelo Pacia. All'alba di oggi, personale del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento ha eseguito su disposizione della Procura 11 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dal pubblico ministero, dei quali 10 in carcere ed uno ai domiciliari a carico di altre tante persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini emerge come nell'isola di Lampedusa, dall'inizio del mese di giugno 2022 fosse presente un notevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo tra i 150 e i 200 kg. Confermata la condanna all'argastolo per Antonio De Pace per il femminicidio di Lorena Quaranta, la studentessa in medicina originaria di Favara uccise in una villetta di Furci e Sicolo in provincia di Messina nel marzo 2020. De Pace, infermiere calabrese, all'epoca era fidanzato di Lorena. Nel processo d'appello la Procura Generale aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. Va spinto dall'attare il ricorso di un poliziotto agrigentino sospesso dal servizio per non essersi sottoposto al vaccino contro il Covid. I fatti risalgono a gennaio 2022. L'uomo in servizio presso un commissariato della provincia viene raggiunto da un provvedimento del questore che appunto lo sospende perché alla data del 13 gennaio non risultava vaccinato. L'agente si è rivolto all'attare per impugnare il provvedimento ma ogni sua tesi è stata respinta. Stasera al Circolo di Cultura di Sciacca alle ore 19.30 nell'ambito della rassegna Frammenti d'Arte 2023 si presenterà il libro Padre Michele Arena da Sciacca, prima gli altri, di Vincenzo Mandracchia. L'autore, già impegnato alcuni anni fa con la pubblicazione della storia delle Sacre Spine, racconta con riferimenti storici ma anche tanti fatti inediti la bella storia di Padre Arena rimasto nel cuore di tutta la comunità saccenza. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona giornata e restate su Corriere di Sciacca.it Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.